Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui con le probabili informazioni e come il derby, anche oggi ci troviamo con la schermata di Pro Evolution Soccer 2020, perché? Perché così almeno avete idea di quello che vi stia dicendo, non è un parlare in maniera astratta, ma almeno avete la certezza che quello che vi dico lo possiate vedere. E dunque, questa è la formazione diciamo base che ha giocato anche contro il Torino, ma che non potrà essere uguale contro il Milan, anche perché Paolo Di Bala e De Ligt purtroppo saranno fuori. C'è anche Mato Di Terzino che è una cosa che non vediamo da, praticamente abbiamo visto una volta sola, quindi... Allora, cominciamo a dire che di sicuro questa, questo sarà la linea difensiva, adesso ve la mettiamo, aspettate che vado a cercare dov'è il buon Danielino Trottolino Rugani. Scesni in porta, poi Danilo, Bonucci, Rugani e Quadrado. A centrocampo Bentancur e Pjanic straconfermati, ma secondo me è confermatissimo anche Rabiocchi, è in crescita e sta facendo molto molto bene. In attacco, ovviamente abbiamo appena detto che non ci sarà Paolo Di Bala, questo sarà secondo me l'attacco. Bernardeschi, Ronaldo, Gonzalo, Higuaini. Con ovviamente la formazione 2 che al 50-60 vedrà assolutamente questo. Cambio, Mato Di per Rabioc e come altre volte, come sempre, Dagras Costa per Bernardeschi per sfruttare la forza della Juve, ma la sua forza soprattutto dirompente nella corsa, ma questo ovviamente, come ho detto, sarà una cosa che andrà avanti solo, solo dopo il cinquantesimo. Attenzione per il cambio di Higuaini, perché secondo me anche Higuaini non so quanto possa avere nelle gambe, quindi attenzione perché il classico cambio Bernardeschi-Dagras Costa potrebbe anche tramutarsi in questo, fuori Higuaini e dentro, dov'è? Dagras Costa. E quindi questo potrebbe essere un'altra cosa che potrebbe succedere nel secondo tempo, proprio perché, come dicevamo, appunto Higuaini probabilmente non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi potrebbe anche essere questo. Come ha detto comunque Sarri, la Juve ha tanti giocatori, ha una squadra che può girare assolutamente tranquillamente i uomini, è una squadra completa, attenzione perché un'altra cosa sorpresa che potrebbe vedersi, potrebbe vedersi martedì, è questa. Cioè Ramsey in un ruolo più avanzato rispetto al centrocampo, un'ala insomma, il posto di Dybala a Bernardeschi mette Ramsey. Attenzione perché potrebbe esserci, tra le varie opzioni, appunto questa, Bernardeschi di qua e Ramsey qua. Cambierebbe forse poco, ma poi nel secondo tempo i due cambi permetterebbero alla Juve di vedere questo. E insomma non sarebbe neanche troppo male questo. Ragazzi, quindi queste le proprie informazioni, mi raccomando ovviamente seguite domani sera il post partita, se non avete visto invece il PES pronostico andate a cercarlo, ricordo domani sera post partita, se Repice farò la telecronaca, ovviamente anche le parole di Repice post, la telecronaca di Repice per il Milan-Juventus, e ovviamente mercoledì invece i top e flop di questa partita che speriamo possa vedere la Juve trionfare a San Siro. Ciao ragazzi, al prossimo video!